Buongiorno, siamo qui all'evento della protezione civile al Parco delle Vallette per una città resiliente, in particolare con l'assessore all'ambiente Alberto Unio e volevo chiedere le prime impressioni su questo evento? Le prime impressioni sono ottime, sono veramente veramente contento di come sta venendo l'evento, di vedere i bambini e i ragazzi che visitano appunto il parco e le strutture che abbiamo montato, sono contentissimo del fatto che ci sono tutte le associazioni appunto di volontariato di protezione civile che hanno veramente lavorato in questi due giorni, tra l'altro hanno fatto un'esercitazione proprio due giorni fa qui vicino al Parco della Pellerina e adesso appunto hanno montato il campo come fossimo esattamente in emergenza e poi devo dire anche grazie, non lo dico per far il piacione ma devo dire grazie veramente anche a voi che state documentando tutto perché è importante poterlo raccontare, quindi vi ringrazio tantissimo di essere qui. Detto questo, come potete vedere c'è veramente tutto in questo campo, siamo riusciti a mettere tutto quello che può essere utile in una situazione di protezione civile, quindi di emergenza, che sia un alluvione, un incendio, un terremoto, qualsiasi cosa, ci sono le tende della croce rossa, c'è la croce verde, c'è la croce giallo-azzurra, abbiamo montato una tenda d'emergenza per chi dovesse stare male in un caso di emergenza, abbiamo la tenda di segreteria, abbiamo l'unità mobile di coordinamento, abbiamo delle simulazioni, c'è una tenda con del fumo dentro, non so se l'avete vista, dove simuliamo un incendio, quindi nel momento in cui succede un incendio facciamo capire anche cosa si può provare in una stanza piena di fumo, ci sono i cani che sono addestrati alle tecniche di protezione civile e anche di vigilanza urbana perché sono i cani della Polizia Municipale, abbiamo i droni come si vede in fondo al viale, abbiamo dei droni che vengono utilizzati per monitoraggio del territorio, insomma c'è veramente di tutto, non posso essere che contentissimo perché è una roba così, devo dire che poi ovviamente grazie appunto al lavoro di tutti i volontari e soprattutto del coordinamento della protezione civile della città di Torino, ovviamente sono loro che hanno coordinato tutto e devo ringraziare particolarmente loro perché ci hanno messo anche l'anima, quindi grazie mille e penso che sia tutto. Volevo solo chiederle per i bambini invece secondo lei quanto pensa che sia importante un'iniziativa del genere? Per i bambini è molto importante, ho visto anche come hanno reagito in tutti gli stand guardando con molta curiosità, penso che per i bambini sia molto importante stare anche fuori dalle classi, andare in giro, vedere cose, vedere come funziona la protezione civile ma soprattutto per i servizi, qua si vede un po' tutto, l'ambulanza, si vedono tutte quelle cose che loro vedono magari in televisione o che magari non sono spiegate nel dettaglio, quindi hanno la possibilità di togliersi tutte le curiosità del caso. L'idea è proprio quella di proseguire nelle scuole, proseguire sul territorio, arrivare il prossimo anno a fare qualcosa di un po' più strutturato proprio in alcuni dei principali parchi di Torino, però ci stiamo lavorando. Perfetto, grazie mille Assessore e alla prossima. 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 Grazie mille Assessore. Grazie a tutti.